ciao a tutti come va spero bene non posso andare a letto perché devo fare una commissione un favore va bene riesco a dire no non posso dire noi cioè non è che non posso e va bene così tanto domani è venerdì e dormirò se Dio vuole sabato e domenica ho fatto questo video perché una mia iscritta penso penso ho capito chi è ma non importa la ringrazio ugualmente lo stesso tanto mi ha fatto notare una cosa molto importante vi ricordate che io lo dico sempre specie negli ultimi miei video vi ricordate la faccenda laura laura ramona la chat col povero giuseppe perché voleva rovinargli la famiglia voleva mettere gizzania o per vendetta o per gelosia o perché veramente io non lo so che razza di cattiverie io non lo so con come puoi fare una cosa del genere comunque con laura laura la sua ex moderatrice ha litigato tanto per cambiare ma adesso dopo che che vi avrò detto quello che devo dirvi e quando salterà fuori la cosa dirà che naturalmente invidiosa e rosicona e di qua e di là che è bugiarda che è lei l'angelo caduto dal cielo e lei comunque laura laura ha a un canale youtube e ha pubblicato due video in uno in tutti e due in uno dice solo praticamente dice che quando hai a che fare con certe persone malvagie come la falsona è molto difficile venirne fuori venirne fuori nel senso che lei si è creata un castello fatto di bugie senza fondamento un castello di carta un castello di di escrementi per non dire qualcosa d'altro che e spero e penso presto gli crollerà addosso nel secondo video spiega com'è andata la faccenda di della chat ramona e della telefonata praticamente è stato tutto montato da quella specie di di cosa perché non è neanche una persona una che fa una cosa del genere per minare la la serenità di una famiglia e questa è una cosa grave molto grave una cosa che io sento è una cosa che è una cosa che uno mi fa bollire sangue due l'ho provata in prima persona con un'altra bestia come lei e vi posso sentire che assicurare che ok basta non dico altro niente ma non è giusto non è giusto per cui laura laura ha detto che ha pensato molto se chiedere scuso o no a giuseppe e alla fine perché ha detto giuseppe ha trovato una sua strada una sua pace una sua e non voleva farlo ripiombare di nuovo in quello schifo però ha preso il coraggio a due mani l'ha chiamato si è scusata gli ha detto la verità molto intelligentemente non ha detto la risposta non ha detto cosa ha risposto credo che abbia detto che giustamente lui vuole lasciarsi alle spalle perché conosce molto bene il soggetto è scappato è scappato ricordiamoci tutti che è scappato da quei soprusi da quei perché le violenze non sono solo fisiche sono anche psicologiche forse fanno più male perché io sempre di sempre sentito quando mi arrabbio e tutto non so neanche più quale lingua parlare io ho sempre detto che forse tante volte è meglio uno schiaffo che la violenza psicologica perché fa male fa tanto tanto male e così praticamente la chat con questa fantomatica ramona è stata tutta una messa in scena della falsona la telefonata era falsa era laura laura al telefono che poi vabbè siccome il karma esiste dio ha voluto che ha girato il telefono e tutti abbiamo visto quello che il nome di chi chiamava per cui tutti i nodi vengono al pettine non si può nascondere la verità a lungo perché perché così perché è giusto che sia così perché così io spero falsona perché 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 se fossimo a quattro occhi o io saprei come chiamarti ma qui non è giusto perché perché non è giusto e comunque falsona io spero che il karma ti punisca come meriti veramente come meriti io non credo a nessuna delle tue finte gravidanze per cui tu proclami sono fertilissima fertilissima come sei uscita con non so quanti uomini prima che facevi la donna del monte che assaggiavi un po di qua un po di là e poi hai anche fatto una lista poi hai trovato su badu il maschio alfa l'unico l'ultimo uomo alfa su badu badu dopo una settimana che ci uscivi dopo una settimana che ci uscivi eri già incinta di due gemelli cavolo adesso in due anni non riesci il karma cara il karma il karma è fertilissima lui è in tutti i video non perde occasione di fare allusioni fare allusioni che non so che se io fossi tua figlia non so ti sputerei in un occhio sapendo che ha una figlia che la guarda a dire certe cose lui è un toro ma come non ti vergogna la vergogna un po' un po' di pudore ce l'hai un po' un minimo no eh quando l'ha distribuita Dio tu eri in fila da qualche parte o a mangiare o a fare qualcos'altro inventarti qualcosa per distruggere la vita delle persone e come col giusto lei ha messo in scena uno stalking inesistente un pianto a secco senza lacrime si è vestita che sembrava non dico cosa guardate come si è vestita quando ha fatto l'incontro col giusto e poi l'ha messa in scena quando è stata sgamata perché una bugiarda patologica così è logico che nessuno crede neanche più a mezza parola non ti crede nessuno e tutti quelli che ti scrivono nelle chat sei bellissima sei dimagritissima sei di qua sei di là sono fake e quelle poche persone che si sono iscritte all'inizio tutto il resto sono fake creati da voi da moderatori compiacenti da tu stessa l'hai ammessa non è che lo dico io tu stessa l'hai ammessa che Angeluccio era un fake perché quando arrivi a rompere con delle persone perché tu amici non ne hai non ne hai amici non hai una vita che gli amici chiamano adesso è chiuso tutto giustamente c'è qualche coprifuoco in Italia penso che sia la stessa cosa se non peggio ma tu non hai amici e quando rompi con le persone che ti stanno intorno saltano fuori gli altarini saltano fuori gli altarini saltano fuori gli altarini che dire altro non ho parole perché questa è una cosa veramente grave veramente veramente grave cioè distruggere una famiglia fare una chat finta far fare a un'altra persona una testimonianza finta questa questa ragazza o questa donna non so quanti anni abbia non so qual è il suo vero nome o cosa dice che non insomma da quando l'ha fatto si sentiva qualcosa dentro che non riusciva a essere serena e dopo che ha detto la verità e ha chiesto scusa a Giuseppe è come se si fosse aperto un mondo e e si sente più leggera più tranquilla io l'amiro perché ci vuole coraggio anche ad ammettere la verità e ci vuole coraggio ad ammettere di avere sbagliato però una persona che ammette di avere sbagliato secondo me è una grande persona perché capisci che hai fatto qualcosa che non va capisci che puoi aver fatto del male ad altre persone capisci che non va bene quello che hai fatto e e così io chiudo qua il video perché perché mi conosco ed è meglio che lo chiuda così questa persona ha detto prima che i video vengano o cancellati o cosa e siccome non ha molto visibilità ho deciso di per quel piccolo perché non è che io sia però nel mio piccolo almeno almeno le persone che vedranno questo video e parleranno tanto si sa si sa che verrà fuori che non è vero oppure che si sapeva che era uno scherzo o chiamerà Giuseppe e non so cosa gli dirà dirà si sapevi che era uno scherzo e tu puoi fare tutto quello che vuoi falsa tu puoi fare tutto quello che vuoi finché la vita Dio te lo permette ma arriverà anche per te la resa dei conti arriva per tutti tu non sei al di sopra delle righe arriva per tutti anche per me anche per me per tutte le persone quando si sbaglia purtroppo o per fortuna si paga perché ad ogni azione corrisponde una reazione e io vi auguro una buonanotte io ne ho ancora prima di andare a dormire e alle 4 suona la sveglia per cui già posso avere un po' le scatole rigirate un sonno che avevo fatto durante quei giorni di vacanza avevo recuperato un po' ma questa settimana mi abbiamo mandato quel sonno che ho recuperato l'abbiamo mandato l'abbiamo mandato a quel paese e così io vi auguro una buonanotte e niente vi ringrazio ancora tanto che mi seguite sempre e niente meglio così niente vi do un grosso bacio e spero presto al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti